Il concetto di metaverso ha avuto un enorme aumento di popolarità nell'ultimo anno con centinaia di progetti sia on-chain che off-chain che cercano di integrare i concetti del mondo virtuale. Dato che la nicchia del metaverso dovrebbe valere quasi 5 trilioni di dollari entro il 2030 molti investitori sono ansiosi di ottenere esposizione a questa crescita. Gruppi di ricerca invece di terze parti come Propercy Market Insight, Greenview Research, Bloomberg Intelligence e altri prevedono che il metaverso potrebbe arrivare a 800 miliardi di dollari o più entro il 2030 rendendolo uno dei più grandi trend di crescita secolare di questo decennio. Al di là dei numeri molto diversi fra di loro le prospettive in ogni caso indicano numeri piuttosto importanti ma come investirci e soprattutto ne vale la pena? Ciao a tutti e bentornati su Risparmio. Io come sempre sono Pasquale il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi libro del quale dovresti trovare il link qui sotto nella descrizione nel caso tu volessi supportarmi acquistandolo dove parlo della mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad investitore e risparmiatore incallito. Se siete già amanti degli anime giapponesi con Overlord o Sword Art Online avete capito cosa il metaverso sia. Alcuni di quelli che hanno solo la più vaga idea di cosa sia il metaverso potrebbero pensare che sia un videogioco mentre altri potrebbero pensare che in senso più ampio sia il futuro di internet. Entrambe queste idee sono in qualche modo vere ma graffiano solo la superficie per coloro che stanno cercando di conoscere il metaverso. Gli investitori di Facebook o comunque i grandi investitori sono probabilmente consapevoli del fatto che la società ha cambiato il proprio nome in metaplatforms un riferimento appunto al metaverso. Il modo più semplice per spiegarlo per spiegare questo metaverso è descriverlo come una sorta di mondo virtuale in cui le persone possono interagire tra di loro e con il mondo stesso. Oltre a Facebook altre aziende stavano già creando i propri mondi virtuali in cui l'interazione è già possibile. Per esempio la piattaforma di videogiochi Roblox ha creato un metaverso in cui le persone possono creare i propri giochi e interagire fra di loro. In un certo senso anche Minecraft di Microsoft è un altro esempio di metaverso nei videogiochi sebbene il poco noto Microsoft Mesh sia un altro esempio di metaverso che consente alle persone di connettersi da una verità di dispositivi come HoloLens 2 e altri visori VR, PC e dispositivi mobili. È probabile che la realtà virtuale, la cosiddetta VR che menzionavo prima, e la realtà aumentata AR svolgano ruoli chiave nell'evoluzione di questo metaverso. Tutti questi esempi dimostrano che il termine metaverso può essere piccolo come in questi mondi virtuali o massiccio e contenere tutti gli altri metaversi come nel senso di un qualcosa che sia maiuscolo all'estrema potenza. Coloro che desiderano partecipare a qualsiasi metaverso possono accedere utilizzando qualsiasi hardware che sia compatibile. Quando accedi al metaverso sei praticamente rappresentato da un avatar digitale, un po' l'avatar che è del film di James Cameron. Un potenziale mondo in cui gli operatori del metaverso guadagneranno soldi e a debitare alle persone, skin, vestiti o altri oggetti premium per ogni avatar. Si può investire nel metaverso in un certo senso, ma il metaverso non è un unico mondo digitale. Ci sono altri metaversi da esplorare. Ad esempio, nello spazio delle criptovalute due o delle più popolari sono Decentraland col ticker MANA e Sandbox con TeterSend. Io ho investito per lungo tempo in MANA e ho incassato qualcosina. Sia MANA che SEND sono valute native per le rispettive piattaforme metaverse, consentendo agli utenti di acquistare immobili digitali, fra le altre cose. I token potrebbero aumentare di valore man mano che gli utenti si uniscono a queste piattaforme, però, come è anche vero, che potrebbero diminuire in maniera drasticamente importante se invece questo non accadesse e non andasse a buon fine tutto il progetto. Tuttavia, investire in criptovalute metaverse è impegnativo perché è difficile sapere quale piattaforma sarà poi quella che sarà adottata o comunque quella più importante. Non sono tutti uguali, quindi è necessario fare una ricerca meticolosa e metodica prima di andarci a mettere il toccherino. Anche il miglioramento delle metiche utenti non significa necessariamente che il valore del token del metaverse aumenterà. Da novembre 2021 a giugno 2022 il prezzo dei token MANA è sceso dell'oltre l'80% e quella parte di profitto di cui parlavo prima appunto si è ridotta di tantissimo per questo motivo, anche se le metiche appunto di questo progetto sono relativamente stabili in questo periodo. Investire in criptovalute metaverse può presentare a un disco elevato. Lo stesso si può dire anche per i token non fungibili, i cosiddetti NFT. Gli NFT rappresentano la proprietà digitale delle risorse come ad esempio immagini, musica, biglietti e altre ancora. Avere proprietà digitale all'interno di una piattaforma del metaverse potrebbe rivelarsi preziosissimo un giorno, molto avanti nel tempo, ma è estremamente difficile da prevedere se questo possa accadere oppure no. Potrebbe essere anche nel migliore interesse degli investitori concentrarsi maggiormente su società del mondo reale, magari quotate, che costruiscono e generano le entrate di tendenza non solo dal metaverso o comunque principalmente dal metaverso. Molte aziende quotate sono già nel metaverso o ci stanno arrivando, ma poche lo fanno in maniera massiva. Fare tante l'ha già menzionata Facebook che ha cambiato appunto nome in metaplatform, come dicevamo prima, proprio per tale motivo. Altre potrebbero essere per esempio Snap e Nvidia. Con i suoi visori Oculus, metaplatform ha già un vantaggio nello spazio hardware del metaverso. Un mondo digitale che consente l'interazione in tempo reale dell'attività economica e una gamma più ampia di esperienze immersive che richiede molte infrastrutture e sviluppo dietro le quinte. Meta sta spendendo miliardi di dollari ogni trimestre, anzi ogni mese, nel suo segmento di attività reality labs. L'azienda crede che il metaverso sarà grande e si sta preparando a risolvere delle sfide logistiche molto importanti. Snap per esempio non è un grande giocatore nello spazio hardware del metaverso, ma la società madre dell'app Snapchat ha già un'altra prospettiva. Spende infatti centinaia di milioni di dollari ogni trimestre in ricerca e sviluppo per la sua maggiore spesa operativa. Una parte smisolata di questa spesa è destinata allo sviluppo delle sue capacità software di realtà virtuale VR e realtà aumentata AR, come dicevamo all'inizio del video. Nel metaverso i contenuti VR ed AR di primordine sono fondamentali e con la quantità di denaro che Snap sta investendo nei contenuti, ci sono effettivamente buona probabilità che la sua tecnologia venga utilizzata da molti all'interno del metaverso. NVIDIA è un altro potenziale player di primo ordine, di primo piano del metaverso che non può essere trascurato a mio parere. Un buon software di intelligenza artificiale, appunto l'AI, aiuta ad accelerare le simulazioni e NVIDIA eccelle in questo contesto. NVIDIA AI è già utilizzata da oltre 25.000 aziende e è uno dei motivi principali per cui le aziende si rivolgono sempre più alla soluzione metaverse di NVIDIA chiamata Omniverse. Ci sono tantissimi svantaggi, oltre ai vantaggi, nell'investire nel metaverso, ma un potenziale svantaggio nell'investire in queste aziende come Meta Platform, Snap e NVIDIA è come notato che queste società stanno investendo risorse in questo contesto molto significative. Tuttavia è possibile che il metaverso di per sé non funzioni nel lungo periodo, come tutti sperano magari se alla fine non fosse redditizio queste società avrebbero fatto meglio restituire capitale agli azionisti sotto altaforma, come ad esempio dividendi o capital gain o buyback, oppure investire in altri comparti. Investire nel metaverso non è per tutti, quindi come qualsiasi investimento una persona dovrebbe considerare diverse cose prima di fare il salto. Tutte le cose del metaverso sono ancora altamente speculativi, quindi non è mai una buona idea investire denato che non puoi permetterti di perdere. D'altra parte c'è anche la possibilità che gli investitori guadagnino molto con una o anche tutte le opzioni di questo elenco, ma non è una cattiva idea parlare con un consulente finanziario che conosce gli investimenti nel metaverso e può comunque aiutare le persone a capire se questa tipologia di investimento si adatta al proprio portafoglio o meno. Io non lo sono, ma ti posso dire cosa faccio io. Non investerò al momento in questo contesto nel metaverso, secondo me se il mercato esploderà non sarà necessario entrare come i primi per avere cospicchi guadagni. Sicuramente entrando adesso se il metaverso esplodesse si guadagnerebbero molti ma molti più soldi di quelli che farei io più avanti, ma preferisco prendere un treno che ha già avuto una certa serie di manutenzioni che si abbia ruotato piuttosto che un incorsa su cui tutti salgono ma che non ha mai avuto una manutenzione neanche quella ordinaria. Poi ognuno faccia quello che vuole con i propri soldini. Bene eccoci arrivati anche alla fine di questo video, fammi sapere tu cosa ne pensi del metaverso e di quello di cui ho esposto oggi nella sezione commenti qui sotto. Spero che il contenuto sia stato di tuo interesse e gradimento e se così fosse per favore come sempre lascia un bel commento ed un bel pollice in su. Inoltre se sei nuovo su questa piattaforma iscriviti al mio canale e clicca la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e arrivederci a un prossimo video. Ciao a presto!